Ben ritrovati in primo piano la riforma del sistema giudiziario che continua ad agitare il mondo politico, ne parliamo in questa rubrica con l'Avvocato Leonida Gabrielli, grande esperienza del Foro di Avellino, ben ritrovato intanto Avvocato, grazie come sempre per la sua disponibilità. C'è questo scontro sulla prescrizione, non solo l'ILVA, la legge di bilancio, all'orizzonte c'è anche questa riforma dell'Istituto della Prescrizione che rischia in qualche modo di far saltare questa maggioranza di governo. A suo giudizio, da tecnico, perché tante polemiche? Metter mano alla prescrizione in maniera così violenta, nel senso di sospendere la prescrizione dopo la sendenza di primo grado, per come funziona la giustizia in Italia, credo sia un negare il diritto delle persone ad avere un processo veloce e a non sottostare poi a tempi lunghissimi la giustizia come imputati. Insomma si rischia di essere imputati a vita sostanzialmente. Per quanto si voglia dire accorciamo i tempi di definizione dei processi, io personalmente non vedo una riforma o degli spunti da parte della politica, del legislatore che effettivamente possano ridurre i tempi del processo in maniera accettabile. Tra l'altro dire facciamo un processo in 4 anni, chiudiamo un processo in 4 anni o in tempi ancora più brevi, quando è la organizzazione della giustizia, della macchina giustizia in Italia ad essere carente, mi pare un azzardo. E se poi dire, portare avanti la bandiera della prescrizione per un fatto di accontentare gli appetiti della gente che probabilmente non capisce nemmeno, infine in fondo, quanto è che la civiltà giuridica si fonda su delle regole precise, allora è un altro discorso. Ma io penso che se il legislatore non mette mano, e la politica non mette mano alla riorganizzazione degli uffici, ai servizi minimi che possano far accelerare l'applicazione delle regole e quindi il processo non si va da nessuna parte. Però avvocato c'è stato probabilmente negli anni un uso anche distorto, se vogliamo, dell'istituto della prescrizione, spesso è sembrata quasi una via di fuga da parte di chi voleva sostanzialmente evitare una sentenza di condanna. Certo, ma il problema è quello, intanto si è abusati, la prescrizione è stata vista da molti come l'ultima spiaggia per potersi sottrarre agli effetti di un procedimento penale, lei però sconta lo stesso problema, intanto si è potuto fare in quanto è l'organizzazione giustizia che non funziona. Perché se avessimo avuto processi rapidi con una organizzazione dalla macchina giudiziaria diversa probabilmente non si sarebbe posto nemmeno il problema, non si porrebbe il problema per la prescrizione. Certo, oggi si parla di processi lumaca, secondo lei avvocato come si può puntare ad una durata appunto dei processi più veloci, che cosa deve cambiare sostanzialmente? Dalle piccole cose, ma noi pensiamo già alle notificazioni che avvengono ancora a mano agli imputati, ai testimoni, basta una notificazione che salta perché salta il processo per sei mesi, ma c'è una carenza di magistrati, c'è una carenza di personale amministrativo, non si è ancora implementato un sistema informatico che possa accelerare gli adempimenti previsti dalla legge in questa materia. Non si è dato delle regole certe e precise quanto ai tempi nella fase delle indagini, ragione per la quale se non si mette mano, io parlo per linee, per grandi linee, se non si mette mano a queste cose non si risolve il problema, non si può risolvere certamente con questa benedetta riforma di buona fede sulla prescrizione, cioè oggi un ministro o una politica o un sistema che irrompe nel processo penale con una regola del genere senza affrontare le cause poi che ci sono per la lentezza del processo e della giustizia, finiamo col stravolgere le regole più elementari del diritto. Senta, a proposito del ministro Bonafede ha annunciato che per i processi ci sarà un tetto massimo di 4 anni e assicurando che la riforma sarà varata entro fine dicembre, lei ci crede? Ma io non ci credo. Come si fa a dire un processo deve finire in 4 anni? A parte il fatto che è un tempo nel quale se mi si dice finiamo i 3 gradi del giudizio in 4 anni, potremmo pure discuterne, ma si immagini come è organizzata la macchina giudiziaria, come si fa a pensare di poter fare un processo in 4 anni. Ma io credo che, ripeto, sono degli annunci che poi nella pratica non trovano applicazione. Questo è il punto. Certo, a proposito di giustizia, la questione morale in politica, parliamo degli ultimi eventi che si sono registrati nella città di Avellino alla luce delle inchieste portate avanti dalla DDA, questo rapporto tra politica e ambienti della malavita organizzata, che cosa sta accadendo secondo lei? Allora, a parte il fatto che ogni giorno noi leggiamo di arresti, indagini, inchieste, questo sul territorio nazionale. Non ne parliamo poi della criminalità organizzata, anche su questo versante non passa giorno in cui non si sente di numerosi arresti, con un impegno per la verità della magistratura notevole, perché poi magistratura e organi di polizia sono coloro i quali sono esposti su questo versante, supplendo anche però alle carenze della politica o del legislatore. Infatti quando ci si lamenta del potere grande dei magistrati non si fa un'altra analisi che la magistratura occupa per necessità, molte volte, i voti che lasciano la politica. Una politica che è abbastanza cieca poi rispetto a dei fenomeni conosciuti, perché mentre noi se parliamo di massimi sistemi allora possiamo dire io non so come si svolge la vita economica di una città lontana, eccetera. Nelle città dove i perimetri sono abbastanza limitati e soprattutto in piccole città come Avellino dove si sa tutto di tutti, diventa una involontaria omertà quella di dire non sapevo di meravigliarsi quando poi accadono delle cose come quelle ultime ad Avellino. Sono fenomeni che si conoscono e allora quando si dice scopriamo che la nostra città ha un tessuto non tanto sano come lo si pensava Avellino, Isola Felice, Virginia, Terra Felice, ma quante volte noi nel fare un'affermazione del genere abbiamo messo la testa sotto la sabbia, non ci siamo guardati intorno, ma non perché non volessimo guardare intorno, ma perché siamo stati ignavi. Certi fenomeni si stroncano, sì sul piano giudiziario e dell'indagine ci penserà la magistratura, ma sul piano sociale chi deve intervenire è chi amministra, chi ha la chiave per entrare nel tessuto sociale dal punto di vista politico. Ecco, l'ultima cosa, Avvocato, ci sono state delle inchieste che hanno interessato anche l'Avvocatura, soprattutto l'ultima questa relativa alle aste giudiziarie, la pubblicazione di atti, dalle intercettazioni agli avvisi di garanzia, rischiano di diventare agli occhi dell'opinione pubblica delle vere e proprie condanne, com'è cambiare questo tipo di mentalità e di rapporto tra stampa e magistratura? Lei che è un giornalista di antica data sa bene che è un problema del quale si discute, è il fatto che tutto passi prima per la stampa e tutto ciò che viene pubblicato alla forza di una condanna, perché quando si è finiti sul giornale per un avviso di garanzia, che poi già la parola stessa dovrebbe garantire al cittadino una sicurezza, nel senso di dire guarda io ti sto indagando, vediamo un poco qual è la tua situazione, ma quando vi vengono sbattuti i nomi sulle pagine dei giornali, con la sintesi, molte volte pure sbagliata, delle inchieste che si fanno, è allora che si è esposti a un giudizio del cittadino, dell'ambiente, dove già per essere finito sul giornale significa che tu sei colpevole. Ha toccato questa cosa, lei mi diceva i nomi di alcuni avvocati. Io ho sempre detto agli amici, alle persone con i colleghi con i quali abbiamo parlato, che fin quando non si mettono delle regole stringenti sulla fuga di notizie, sulla possibilità dalla stampa di pubblicare di tutto e di più, sanzionando questo tipo di comportamento, non si va da nessuna parte. Perché alla fine, mentre quando esce la notizia c'è un clamore enorme, quando poi quella persona, se mai indagata, ne esce dalle indagini in maniera pulita, non recupera più, perché non c'è più interesse. La fame dell'opinione pubblica è quella del pollice verso, dell'indice di colpevolezza e allora non può andare così. L'avvocatura è stata toccata da questa cosa, però io mi permetto di dire che, a parte il fatto che non giudico nessuno, figuriamoci un poco, io imputato nel processo isochimica come il peggiore inquinatore che ci possa essere, di una cosa del genere, però male ha fatto l'avvocatura a non reagire, nel senso che io non dico che si debba sposare la difesa di colui il quale viene se mai indagato o il quale ha avuto una disavventura, poi vedrà la giustizia se è vero o meno. Però quello che mi sorprende è l'assenza dell'avvocatura nel suo mertice massimo, che poi è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i quali non hanno inteso o non hanno ritenuto, non hanno avuto la sensibilità di fare un intervento su questa cosa e dire, badate, noi rispettiamo le inchieste, rispettiamo tutto quello che fa il potere giudiziario ed è giusto che sia così, anzi collaboriamo se vogliamo in questo senso, perché c'è la possibilità di collaborare, perché i Consigli dell'Ordine hanno la possibilità di intervenire anche sugli scritti, però l'avvocatura non è questa, non puoi tu dire, l'avvocato Gabriele imputato nel processo isochimico per disastro ambientale, tutti gli avvocati sono così o tutti gli avvocati scontano questo fatto, non è così, l'avvocatura è un'avvocatura quella bellinese sana, è un'avvocatura preparata, diretta male per la verità, organizzata male, si è visto dalle ultime vicende elettorali del Consiglio dell'Ordine, però qualche parola andava a spesa. Io ho apprezzato molto il documento che ha fatto la sezione locale dell'Associazione Nazionale Magistrati, i quali hanno reagito con un comunicato rispetto alla sola lontana ipotesi o supposizione o preconcetto, chiamatela come volete, che potesse essere coinvolto addirittura la magistratura addetta alle esecuzioni immobiliari di Avellino, c'è stata qualche illazione sul punto e ha reagito, è bene ha fatto e avrebbe dovuto fare così anche il Consiglio dell'Ordine per la verità. Che è rimasto però in silenzio. Assente. Grazie all'avvocato Leonida Gabriele per questa intervista, ringrazio Regie per noi Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con 8 Channel, arrivederci. Grazie a tutti.